Oggi vi faccio vedere come il super lucido, il detergente lavapavimenti alla citronella, che è uguale al super lucido normale, quindi per pulire e lucidare come il normale super lucido, però questa ha una particolarità, è alla citronella e quindi allontana quello che sono gli insetti. Infatti questo più che altro è indicato per, non so, le case di campagna, chi ha i terrazzi e chi è che non ha, cominciando da formiche, zanzare, in questo periodo soprattutto, e adesso andranno ad aumentare. Allora io ho scoperto una cosa che lo uso anche direttamente spruzzato nel davanzale e nei muri circostanti del mio terrazzo, oltre che usarlo per lavare. Metto una dose, due dosi, dipende anche da dove dovete spruzzarlo. Aggiungete anche, se volete, un dito d'acqua o lo spruzzate pure, io lo spruzzo pure pure perché così ha più effetto. Dopodiché lo spruzzo nei davanzali, tra l'altro fa un buon odore, nei muri circostanti che mi confinano, diciamo, il balcone, il mio terrazzo. Quindi lo faccio salire anche nei muri perché così mi crea come una barriera. Ottimo per lavare, per pulire, ma per allontanare gli insetti.